allora buongiorno allora le orchidee sono tra le piante più robuste che c'è però possono avere dei problemi come noi sono soggetti a mille malattie e notrano un sacco di parassiti sia funghi insetti e anche piccoli animali come topi di macere piccole lumache senza guscio batteri virus possono avere mille malattie come noi appunto parecchi ogni tanto c'è qualcuno che sui gruppi facebook tra l'altro abbiamo un bellissimo gruppo facebook si chiama orchidee medicina una medicina per l'anima se vi interessa tanti mettono delle foto di un'orchidea magari o di una foglia cos'è questo problema come faccio a sapere cosa tante volte qualche volta si riesce a capire ma difficilmente non è che vedendo una foglia uno capisce cos'è il problema provate voi telefonate al medico gli dice noi dite non sto mica tanto bene cosa so cosa sai può essere mille cose cioè se oltre che mandare una foto di una foglia mandate che la foto della pianta possibilmente delle radici fate una piccola descrizione non scrivete poemi e se no non legge nessuno cercate di essere concisi ma spiegando bene tutte le varie cose della pianta allora magari si riesce a capire che cos'è perché sennò così non ha senso uno come se te lo dottore dice non sto mica bene cosa c'è non si sa sia mal di pancia ma di testa i calli o mal di denti cioè bisogna cercare di spiegare nel modo più conciso possibile i sintomi e postare non solo una foto di una di una foglia di una radice anche della pianta intera possibilmente anche delle radici la maggior parte dei problemi che si vedono sulla pianta del provengono dalle radici la causa nelle radici poi fuori si vedono i sintomi diciamo che la maggior parte l'80 per cento dei problemi che ha una pianta il problema è nella radice per cui cercate di possibilmente per vedere anche le radici perché sennò dire così cos'è questa paglia qua che cos'è che cos'è non lo so la maggior parte delle volte vi posso dire non lo so ma perché non lo so non è perché non voglio rispondervi anche un miglior tecnico del mondo non è che può sapere tante volte si capisce da una foglia non so la cocciniglia si vede che la cocciniglia è un regno rosso ma se no ci sono tante cose che se non vedi tutto il complesso non puoi capire che cos'è e poi come dicevo una piccola descrizione di tutti i sintomi della pianta per aiutare cioè come dico piuttosto concisa perché se scrivete un poema non lo legge nessuno ok grazie